Questa canzone si titola The Equipment's Time perché siamo convinti che questa sia ancora il tempo dei briganti Non c'è bisogno di spostare il mondo La piazza e le fai solo per essere inizonti Sì Noi non vuole un colore di Dianne Mantine Cos'è l'acumantine Cos'è l'acumantine Cos'è l'acumantine Cos'è l'acumine Per me venger a while, venger, non ma twenty Point a while Paata una vicenda Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.